Per il Campobasso allenamento sotto la pioggia presso il campo sportivo Vita Antonio nel giorno che sarebbe stato quello del 32esimo compleanno dello sfortunato ragazzo di Ripalimosani, Marco Vita Antonio, per l'appunto scomparso tragicamente in un incidente stradale il 2 gennaio 2010. Favo ha diretto un amichevole in famiglia mischiando le carte in vista del Matelica, allenamento con la prima squadra per il terzo portiere Gaetano Mazzella, uno degli estremi della Juniors di Carmine Rienzo che bene si sta comportando nel campionato di competenza. A corso intorno al perimetro del Vita Antonio anche Carmine Guglielmi, uno dei protagonisti del campionato di eccellenza vinto nel 2013-14, poi infortunatosi gravemente nella trasferta di Fornelli. Tornando all'attualità potremmo ipotizzare la medesima difesa vista all'opera al Mancini di Fano con Corbo a destra e Rao a sinistra. A centrocampo iniziano a sorgere i primi ballottaggi come quello concernente il classe 96 da schierare considerato che Grazioso ha smaltito i postumi di un leggero infortunio. Quest'ultimo si contende una maglietta con Lucchese. Favo dovrebbe essere orientato alla riproposizione del 4-2-3-1 con Boldrini e Bucchi che dovrebbero partire leggermente avvantaggiati per una maglia dal primo minuto. In Lizza per completare il campo basso, Antimatelica, Todino, Fiore ma pure lo stesso Alessandro. Ovviamente c'è anche Dimas tra i disponibili di domenica prossima ma il brasiliano potrebbe risultare anche nell'elenco dei partenti del campo basso nella finestra dicembrina di mercato. Sul banco degli imputati anche una condizione fisica abbastanza approssimativa del brasiliano mai del tutto recuperata. A campo basso giunge il Matelica del talento molisano Vittorio Esposito il cui debutto con la maglia dei marchigiani è avvenuto alla sesta di andata a Recanati lo scorso 4 di ottobre. Da quel giorno per Esposito due gol, entrambi segnati a Chieti e una sfilza di assist di una certa consistenza. L'Isernia di De Bellis viaggia alla volta di Avezzano per incontrare una squadra che obiettivamente è in crisi di risultati ma non di gioco. Gli abruzzesi sono stati stoppati prima dal Fano poi dalla Folgore Veregra ma offrendo comunque prestazioni importanti e senza essere mai arrendevoli. Nei bianco celesti torna dalla squalifica Ruggeri ma di contro si ferma l'attaccante Panico per un turno. De Bellis studia le alternative in attacco da presentare al De Marsi e la soluzione che sembra la più plausibile a due giorni dalla gara sembra essere l'impiego di Cantoro come terminale offensivo. Quest'ultimo è stato pure il match winner della gara interna contro la Fermana. L'Isernia che già avanta tre punti proprio sull'Avezzano intende fare un vuoto con gli abruzzesi e tornare alla vittoria esterna assente dal colpaccio di Giulianova dello scorso 16 settembre. Solo cinque i punti lontano dall'Ancelotta in sei gare giocate rispetto all'ingente Bottino a domicilio consistito in 14 punti in sette incontri. Punti importanti per entrambe anche in Olimpia nionese. Iesina sfida che Granata vogliono assolutamente vincere per dare seguito alla bella vittoria esterna di Pesaro griffata da Marolda e Jellov. San Nicolò a Miternina è l'anticipo della quattordicesima di andata. Si giocherà domani a Teramo e sarà diretta a partire dalle ore 14.30 dal signor Piacenza di Bari.